Asp conferiti gli incarichi di responsabile di struttura semplice a 31 dirigenti azientali è un contributo di chiarezza dal quale ci attendiamo una crescita dell'offerta sanitaria il commento del direttore generale Francesco Iudica Controlli intensificati nel comune di Enna per migliorare il decoro urbano e la corretta raccolta differenziata dei rifiuti In corso la ripulitura dall'eco piazzola di Contrada Staglio a Percusa installato sistema di videosorveglianza per contrastare l'abbandono dei rifiuti Al via mercoledì 1 luglio con ampio anticipo rispetto al calendario nazionale gli sconti al Sicilia Outlet Village Ribassi fino al 70% e prenotazione online delle visite queste alcune delle nuove strategie La cittadienna a un nuovo sacerdote, Don Valerio Sgroi, è stato ordinato presbitero dopo una solenne cerimonia al Duomo alla presenza del Vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana e al Clero della Diocesi Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!